e a proposito di quello di cui parlavamo io ogni tanto ammetto di andare su ma da da anni ammetto di andare su ebay per beccare occasioni qualche volta l'ho anche beccata un paio di occasioni soprattutto sulle 1200 però poi mi sono sempre frenato prima cosa perché non avrei solo spazio io vi farei vedere come come stream e qual è la mia postazione praticamente ormai io a casa sono relegato in questo angolino di paradiso in cui mi chiudo letteralmente perché questo è un pannello ovviamente non può essere una vera foresta giusto e niente io sto in questo micro angolino in cui praticamente non c'entra più a momenti neanche il bicchiere dove bevo e quindi sarebbe un problema innanzitutto da quel punto di vista però vabbè uno insomma si sa che queste cose noi nerd le affrontiamo anche in maniera abbastanza leggera no quindi alla fine non è quello il problema però è una delle scuse che mi pongo per non fare questo passo perché poi so lo so poi che cosa succede quindi non mi fate fare questo passo me ne sto con il mio emulatore me ne sto con il mio amica forever che di cui sono un fiero e proprio orgoglioso sostenitore da quando esiste io ogni volta che c'è una versione nuova io l'ho sempre comprata quindi sono ufficialmente proprietario dei kickstart legalmente da sempre sono veramente contento di di aver sempre sganciato i soldi alla cloanto tra l'altro la stessa cloanto che mi faceva andare in edicola quando ero piccolo e mi faceva comprare i dischetti con le demo e tutte le cosine bellissime e per il momento diciamo la parte real hardware è solo un sogno che appunto vedo poi da chi da chi è riuscito a realizzarlo magari perché non ha non ha buttato non ha insomma venduto la sua amica quando quando ne ha avuto l'occasione quindi ce l'aveva ancora con sé e ha sfruttato questa cosa come per esempio il buono holland e come tantissimi di voi e di di che no bisboc e niente per ora rimane rimane in quel limbo lì e lo so che le soddisfazioni sarebbero totali ma so che poi ci andrei veramente troppo in fissa già già ci sto in fissa con con l'emulatore che ci perdo le serate a configurarmi le cosine ecco una cosa che stavo per fare è prendere l'fpga che è quanto di più vicino al real hardware tra virgolette che uno ci che insomma si possa acquistare adesso attualmente quello mi ha stuzzicato tantissimo stavo proprio lì lì però poi ecco per lo stesso motivo di cioè poi va ci vado proprio sotto tantissimo non posso non ce la farei con tutti i soldi che ti diamo in abbonamenti non sei ancora milionario no evidentemente non me ne date così tanti no non è una foresta vera e lo so che vi ho detto vi ho dato questa delusione enorme però no fallo non mi tentare non mi tentare per favore che tra l'altro una volta allora io ho posseduto un'amica 500 poi ci ho aggiunto l'hard disk e poi non contento ho preso la 4000 quindi io ero un possessore di amica 4000 40 poi vabbè non vi dico che cosa ci ho fatto e con che cosa l'ho barattata perché mi vergogno quindi non lo sapete non lo saprete mai è scritto nella descrizione su twitch ma non lo saprete mai e quindi io avevo ad occhiato anche una cosa un po più un po più massicce c'era su ebay credo che ci sia ancora perché non lo compra nessuno ovviamente per quanto costa un'amica 4000 tower la versione quella tower che è bellissimo ogni tanto vado lì me la carezzo sul monitor ma non si può fare cloanto si chiamava cloanto amica disc quello che compravo io poi all'epoca pensa che un'amica 500 l'hai trovato nella spazzatura è stato bellissimo ripristinarlo sbiancarlo riportarlo ai fastidio no è vero guarda io io veramente ti ti assicuro che questa cosa del real hardware ce l'ho sempre avuta qua soprattutto adesso che streammo perché streammare real hardware sarebbe l'amica sarebbe proprio per me l'apoteosi del del coronamento proprio del di quello che ha rappresentato l'amica per me ma ma proprio in generale io mi sono sempre tanto tanto pentito di aver di averla data via e quindi ecco mi è sempre rimasta qui questa cosa vabbè che ci vuoi fare grazie